Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome? Perché tu hai il nome? Mi chiamano lo scemo. Come ho si voltare le spalle a me? Schiavo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome! Sono Alessandro Nicolassi, faccio radio da 30 anni. Ultimamente ho aperto una mia radio e gli ho dato lo stesso nome, Radio Casa Nicolassi. Ho fatto anche un'app che potete scaricare sul vostro store. Ma ve lo devo sempre ricordare, Radio Casa Nicolassi. E sei nel posto giusto.